Ecco, bom, molto contento. Ecco, lasciala lì in mezzo. Lasciala lì così che va bene adesso. Lasciala un po' più lì in mezzo adesso che va bene. Tirala un po' che passa Spampi in mezzo bene. Oh, così. Vai Spampi! E attento che quello ti taglia le gomme. No, ti passa sopra. E adesso l'allarghi di più, basta. E no, devi allargliarla. Eh, ho capito, ma prima c'era, vedi, adesso non c'è il legno, fatti fuori. E l'ha preso lo stesso sasso, eh? Hai preso lo stesso sassetto, eh? Devi farla proprio al di là del sasso. Lascia, lascia lì. No, è che verrà via. Devi venire continuato. Anche là quando parchi, senza fermarti, vieni via subito. Adesso ti fa vedere il marco. Oh, gli diamo una chance e poi ce lo diamo, eh? Attenzione al pilotone con la gomma 05. C'è il partito da bene. Sessione, sezione. Tutto bene, molto bene. L'ambucata, imbucata. Attaccati alla... Ha imbucato la piatta. L'edera morta, l'edera morta, prendi Marco. Sì, andiamo. Sì, andiamo. Cazzo, non è vero, non è un termine. Sì, questo sì. È troppo grosso, buttaglio sullo zaino. Non c'è qua niente, cazzo. Ha preso la pedivella col ginocchio. Ce n'hai due. Due pedivelle e due ginocchi. Non scavare. Dammi, dammi. Alza, dammi, ti metti un caldeggiato prima. Un altro, cazzo. Capustana, uno l'ho imbucato. Quante marce ha? Stavamo venendo su lì dall'anello. Ma in che marcia sono? Ma domandami che marcia sono. Lo indiglio, quinta. Ma non è percibile. Ma picchiate, ho ginocchio sulla pedivella. Come mai? Lì. Come mai? Qui o lì? Lì o qui? Se ne guarda che ero entrato bene. Cazzo, sei entrato giusto. Solo che senti, plup, fermi tutti.